Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, sono contentissimo perché quest'oggi torniamo a lavorare come dottori E non so quanti di voi se lo ricordano, ma anni fa avevamo fatto una mini serie su Minecraft Tra l'altro forse non finita Dove dovevamo operare le persone, praticamente finivi nei corpi giganteschi dovevi tipo sconfiggere mob, tagliare blocchi e tutto quanto per curare le persone Era veramente divertente, mi piaceva un sacco Quindi sono contento di far qualcosa di simile oggi all'interno di Minecraft E questo è l'ospedale dove lavoreremo Andiamo Ok, tu fai l'assistente e faccio il dottore Perfetto Il chirurgo anzi, più che il dottore Allora lui Faranno tutti in buone mani E il dottore invece Sei pronta? Facciamo in questa maniera e ci dà giustamente tutto quello che ci serve Abbiamo il bisturi che è praticamente un coltellino e il camice Sembra esatto un'altra roba Sono un presentatore di Natale col camice da dottore Un po' confusa E c'è un coltello in mano, cioè se mi trovate scappate È la cosa più sicura che potete fare secondo me in questo momento Allora, dobbiamo trovare la sala operatoria Ok Però non ci sono cartelli Qui Lì vedo un cartello Qui no Buongiorno Ho trovato il dormitorio Hai trovato qualcosa? Potete metterli due segnetti per un lavoro del cielo Ma io dico almeno tipo qua si lavora un cartellino, no? È questo? Non è questo, è la cucina Vabbè, però la cucina è utile sapere dov'è L'ho trovato io Ok, ok, perfetto Ti ho visto, ti ho visto, ci sono Allora, ci dice di rimuovere il piccone Il piccone Perché come vedi il povero villager C'ha un piccone conficcato in testa Perché probabilmente ha fatto arrabbiare qualcuno E noi non possiamo farci nulla sul fatto che arrabbiare qualcuno Ma possiamo Qua secondo me, Steph, c'è scritto resource cave Quindi probabilmente ci sono le risorse che ci servono Sì, sì, ma è un'emergenza, sta sanguinando E lo so, sta per morire E ci sono dei blocchi di pietra con dei genotti Eh, però avevi bisogno del piccone Quindi è giusta questa la sequenza Se no non ce l'avremmo fatta Come li potevi raccogliere È vero, però Poverino No, no, ce l'abbiamo fatta, è giusto così Allora, devi rimuovere lo smeraldo adesso Col, col Eh, Steph, anche tu Oddio, che schifo Aspetta Vai Ok No Devo aprire il paziente Eh sì, dobbiamo Allora, assistente si tenga pronta Sono pronta Potrebbe partire una fontana Però io non ho cerotti Non d'acqua Eh, lì non mi ha dato cerotti Ho tre cerotti io Vada Ce l'hai fatta Eh, si è buggato Però sì Ok, no, no, no Io vedo che tu hai richiuso tutto E sei stato Cosa hai in mano? L'ho chiuso L'ho chiuso Se n'è andato No, eh Vedi? Ok, sì No, vedo un golem io adesso Tu vedi un golem? Eh, sì Ma sotto c'è il bro Schiacciato Lo vedi? Ok Facciamo Non è, secondo me non è una cosa importante Ok No, no, no Va bene così Finché abbiamo un nuovo paziente va tutto bene E io comunque ho visto un villager andarsene felice Quindi, se lui è soddisfatto lo siamo anche noi Allora Noi a questo punto Cosa dobbiamo fare? Abbiamo bisogno di un sacco di ferro Perché dobbiamo craftarci l'armatura full ferro Per poter procedere con l'operazione dell'iron golem Ok, perfetto Stiamo per fare una cosa che non è propriamente legale Non ho capito cosa però Seguimi, tu seguimi Io ti seguo, ti seguo Non raccontarlo alla gente, ai vicini Bisogna trovare delle scale che portano fino al tetto Ok Ok, perché Non queste, giusto? No, non mi pare Perché sono chiuse Ci sono tante scale in questo ospedale E solo un tipo di scale porta fino al tetto Noi abbiamo bisogno di quelle Ok, cerchiamole E non sono queste dei celotti Sì, ma scusate Sì, secondo me sì No, no, no Aspetta Ce la facciamo così? E con la situazione un po' buggy Un po' fastidiosina Che stai combinando sta? E non mi sono rotto l'anima E cercare la scala E facciamo come si faceva tanto tempo fa Ecco Perfetto Sai cosa abbiamo fatto? Sì Praticamente il tetto di questo ospedale È fatto con blocchi di ferro Ah, ok Genio Ora abbiamo il ferro Comunque ho trovato la scala Alla fine c'era E ti porta tutto in alto Io non l'ho trovata E qui No, io in realtà adesso sono in un sotto Ok, sono in un sottotetto Con dei ragni E ci sono le scale per raggiungere il tetto Ok Guarda Allora, qua abbiamo la crafting table Sì, sì, sì Sono andato via C'è il parcheggio per l'elicottero C'è il parcheggio per l'elicottero Non credo che avremo l'elicottero E basta al dottore No Penso dobbiamo fare tutti i pezzi Eh, penso proprio di sì Io temo che dobbiamo tipo combattere in qualche maniera Se ci sta chiedendo l'armatura Aspetta Vediamo se devo tipo togliere il camice Ok, dobbiamo fare il shrinking device Per entrare dentro il mob Shrinking device Come si fa il shrinking Shrinking device Quindi devi diventare piccolino Ferro E mi serve un pezzetto di lana Ok Mi hai visto in giro Sì, sì E dell'oro Ok Buttami tutto addosso appena c'è tutto Il problema è che io t'ho perso E io sto di nuovo dal golem, cara È un peccato di lana Mi deve seguire in ogni momento Un blocco d'oro Un blocco, un gold ingot e uno di lana Ecco, me l'ho persa Me l'ho persa Come sempre Ho tutto, tutto quello che ti serve No, il gold ingot ce l'avevo Ti ho dato la lana Mi serve solo la lana Perfetto, sì A posto La lana ce l'avevo Shrinking device Lo utilizzo? Eh sì, utilizzalo Che stai aspettando? Eh, sono entrato dentro l'iron golem Ok Bello, è tutto di ferro Devo disattivare l'energia del caro golem Forse Distruggendo questo fiorellino Comunque c'è da dire Che le istruzioni sono poco chiare Sì Ah no, forse queste batterie Vedete? Probabilmente sono le batterie con cui l'energia Oppure forse dovevo soltanto scendere qua sotto E ho rotto cose che non dovevo rompere È pieno di fiorellini rossi Geniale Da questa parte Magari questo? Bottoni a caso? No Questi? Io lo spacco Tu Cioè raga, a un certo punto Io rompo tutto quello che può essere Per il povero iron golem Fa una brutta Forse era quello Magari Sì Però posso venire anch'io Certo Cioè mi sto annoiando Certo Basta fare Esatto No, no, no Perché è ovvio che devi fare tutte le cose E aiutami Occhio, 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 occhio E occhio, occhio, combatti Eh ma abbiamo solo sto bisturi bruttissimo È meglio di nulla Il dottore viene attaccato e tu dici occhio Ok Ok, dobbiamo riaccendere il povero golem Che abbiamo appena curato Perché questo qua era il suo virus Il virus interno, capito? Ok, sì, sì, tutto chiaro Ok, adesso devo fare right click No No No, non voglio rimanere incastrato dentro un golem a vita, raga No Aspetta Aspetta Ok Ok È in piedi, ciao Sta bene? Sì, a differenza del Anche lui sta bene, non ti preoccupare Sì, davvero? Sì, sì, sì Ok Cioè lo senti lamentarsi, no? E allora sta bene Tu vedi l'enderman? No Pensavo lo vedessi tu No Allora È tutto bagatissimo Ma ce la possiamo fare Dobbiamo creare il nuovo scalpello Per poter operare l'enderman Mi serve un bastoncino E un ender pearl Ce l'hai il bastoncino? No Adesso sì, tranquillo È l'ender pearl, giusto? È l'ender pearl Si sbrighi, mia cara assistente Perché qua Io ho tutto Perché sono l'assistente perfetta Potrebbe morire Potrebbe morire Eccolo qua Ender scarpelle Oh, eccolo Allora Devo togliergli le gambe È una cosa terribile Senza gambe, mo Devo craftare delle nuove gambe Ok Perché sono rotte, giustamente E sei ossa, mia cara Ok Meno male che questo ospedale è attrezzato Con ossa di scheletro Che per qualche motivo diventano di enderman Non fare domande Cioè l'importante è che noi facciamo le gambe giuste Ok Devo inserire le nuove gambe Devo aprire il paziente Credo con lo scalpello nuovo Ecco, ora si vede Vedi che col primo villaggio il ragazzo si era buggato Devo rimuovere il core Ok Devo Riattivarlo Riattivare Aspetta che non voglio sbagliare niente Hai bisogno di un defibrillatore Reclick to activate Mannaggia Oh Oh, 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 oh Io non ho niente Appugni qua, eh Fa appugni Tieni, tieni Questa è per te Ok Ok, no, era giusto, era giusto Ho bisogno anche di cibo Ok Vada in mensa Non è vero, non c'è bisogno Non c'è bisogno Ma il paziente che si alza E sta benissimo Craft a pair of wire cutters Cucurucutters, cara Hai capito? Sì Quindi dobbiamo fare delle pinze Esatto Che meno penso che siano quelle in italiano Allora, mi serve delle cesoie E un blocchettino d'oro Si sbrighi, assistente Però c'è, lei fa un po' troppe richieste Guardi che il creeper potrebbe esplodere Venga È questione di tempo Allora E mi hai detto un blocco Vabbè, dai Mi hai detto un blocco Sì? Sì Ho sbagliato, assistente Cosa voleva? Niente, niente Non ho risolto Se lo faccio a quello che le manca Immagino che Uh No, bellissimo Aspetta, devo azzeccare l'ordine giusto? Esatto Sbaglierò Sicuramente Allora Giallo, blu, rosso, verde Giallo Eh, ma non vedo neanche il blu Dov'è il verde? Eh Allora Sa che devo venire a darti una mano lì Rosso Io ho paura ragazzi che qualsiasi movimento faccio fa esplodere la mappa Quindi me ne sto rimanendo buona per quel motivo Allora Il giallo è qua Però questo è un blocco unico, Steph Se tu rompi rompi tutto Questo, no Secondo me no È rosso, nero e giallo Ma io le candele vedo giallo, blu, rosso, verde Quindi i colori non ci azzeccano C'è un altro indizio in giro? Non mi pare È molto piccolo la zona creeper Allora Il giallo lo vedo però Inizia dal giallo Prova a vedere che succede No, se sbagliamo è finita Eh lo so Però Cosa vuoi fare? Esplodiamo La tua idea è esplodere La tua idea è Allora Non lo so Esplodiamo Aspetta, aspetta Aspetta Sono dei numeri forse Uno, due, tre e quattro In che senso? Perché vedi che sono diverse le candele? Cioè forse l'uno è il giallo E ci indica qualcosa Che c'è che stai ridendo? Spiegami cosa hai ottenuto dal tuo indizio Però sono diverse Quindi qualcosa ci sta indicando, Steph L'ordine Ma i colori non corrispondono alle candele Hai qualche soluzione se non provare? La mia idea sarebbe Primo giallo Secondo rosso Perché il rosso c'è E dato che il nero non c'è Come ultimo Vai Le priorità che vada Sono molto basse Non puoi essere così preciso Ah E qui che casca l'asino E qui che casca l'asino Vedi che è una cosa diversa Giallo Uno No, blu Giallo, blu Eh? Rosso Eh? E verde Tu e il tuo uno Secondo me sono dei numeri che hanno senso Sei una pagliaccia Che ne basta la metà Guarda se non funziona ti spacco la faccia Aspetta Remove the radioactive gunpowder Ah Questa? Credo Eh perché è radioactive Non radioactive Capito? Faccio io assistente Fai tu? Sì sì È meglio che lei non tocchi niente di radioattivo Sì 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 No te l'ho detto Io ho paura oggi Quindi rimango solo qui Il vero radioattivo è la mappa buggata in realtà Guardate come aumenta pian piano la barra Ogni volta che intolgo uno Mi hai lasciato una qui dietro però Top Assistente Scusa No fallo tu No nel senso assistente Non mi faccia vergognare di me stesso Leave the body Ok Esci Ok Hai sentito il verso? Sì Ok perché certo Trova uno strano animale fuori dall'ospedale Quindi sta fuori? No ma è un mix tra una mucca e un maiale? Eh penso di sì No Anche perché ha detto strano animale Questo è No è una mucca No Però è lui Ma scusa Per me doveva essere una mucca e un maiale mixati Vabbè così Era una mushroom cow Cioè ma È un po' una fregatura No 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 Cioè dimmelo Ci stavamo aspettando tutti Assistente Assistente Un bellissimo Lei non ha studiato abbastanza Per riconoscere ciò che è un mix Tra la mucca e un maiale E era una mucca maiale Ci stavamo aspettando tutti Un bellissimo mutante No mi dissocio Ah ecco ancora peggio Oddio no Adesso è quello che ci stavamo aspettando tutti No non lo voglio neanche vedere Fa troppa impressione Cioè che roba brutta è Allora Aspetti un attimo Hai bisogno Gli hai separati No È già finita No No perché io in realtà ho soltanto chiuso l'inventario Non ho fatto niente Però gli hai separati Sì ma è come l'effetto placebo Delle scemente che avviene la gente Esatto poi si sentiva quello Si sono separati per magia Ma li hai visti che poi se ne sono andati separati Cioè hai visto la stella Sì sì ho visto tutto Ok e vabbè è andata Quindi il warden Io lo sento Dici? Eh sì Non lo senti No Non so se è qui giù ma sento proprio A me pare più un orso che un warden No no sono i versi del warden Non penso sia qui giù eh Qua c'è per andare nel nether Qua c'è per andare nel land E in nessuno dei due casi trovi un warden Forse sta sotto Aspettate No lo sento Perché lo senti? Non c'è Come fai a non sentirlo scusami? No sento ma Lo sento sopra la sala Quindi a meno che non è buggato E non lo vediamo Sopra la sala? Sì scusa fammi andare a vedere Dici? Io sinceramente non vedo un warden in giro te lo dico Quando la situazione si fa difficile Ci vediamo in un prossimo video Abbiamo salvato la vita di tante persone Tra cui Maiale e la mucca Faccio un'operazione difficilissima La più complicata di tutte Che è stata veramente complessa Dove ho dovuto mettere tutta la mia competenza Per riuscire a farlo E' stato un viaggio In tutti i sensi Bello e brutto nello stesso tempo Spero che abbiate apprezzato assieme a me tutto ciò E grazie assistente per tutti gli oggetti Prego Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Ciao